Giro di vite sull'abusivismo edilizio nel Gargano. La Procura di Foggia ha avviato per la prima volta una massiccia attività di demolizione di immobili abusivi a seguito di condanne divenute definitive per violazioni della legge urbanistica e antisismica. Istituito un ufficio demolizioni del quale si occupano due magistrati e alcuni agenti della Polizia Municipale del Corpo Forestale dello Stato. L'ufficio dispone di una dotazione di mezzo milione di euro provenienti dal protocollo firmato con il Ministero dell'Ambiente e l'Ente Parco Nazionale del Gargano. La prima demolizione sta riguardando strutture in località Foce, Varano. Si tratta di 14 bungalow destinate a campeggio. Le successive demolizioni riguarderanno immobili in cemento armato, sempre nell'ambito dell'area del parco, non adibiti ad abitazioni considerati particolarmente invasivi sul piano ambientale. L'intervento è considerato di massima importanza, tenuto conto che la tutela dell'ambiente e il rispetto delle regole da parte della collettività costituiscono un riferimento fondamentale per la tutela della legalità. Un segnale che la Procura ha inviato alle amministrazioni comunali interessate da fenomeni di abusivismo edilizio, sollecitando gli enti ad intervenire tempestivamente attraverso autonoma attività di demolizione, oltre ad una maggiore collaborazione con la Procura della Repubblica.